Il re spodestato, in una stanza del laboratorio dell'istituto, Franco stava mettendo a punto il suo programma di ricerca con Romano Antonelli, il collega che lo avrebbe aiutato. Osservò pensieroso la grande carta geografica spiegata sul tavolo che aveva riempito di segni fatti con i pennarelli colorati. Ho riportato sulla carta tutte le località in cui negli ultimi anni sono stati effettuati avvistamenti di lupi in modo da visualizzare, cioè da mettere in evidenza, far vedere presto e chiaramente quelle che probabilmente sono i loro areali, cioè le zone dove vivono, le zone geografiche in cui la loro specie può vivere, spiegò all'altro. Hai appurato qualcosa? C'è un fatto che mi ha colpito. I lupi stanno gradualmente scomparento da zone in cui sono sempre stati, sappiamo tutti che sono una specie di via di estinzione. Già, però di recente sono stati segnalati in zone da cui erano scomparsi da molti decenni. Succede abbastanza spesso che un individuo si allontani e vada a colonizzare un'altra zona, fondandovi un nuovo branco. Questo può spiegare la comparsa dei lupi in zone nuove a Nui Franco, ma non in ritorno in zone abbandonate da generazioni, distanti, anche centinaia di chilometri. Che cosa guida fin là un branco o un lupo solitario? L'istinto, è ovvio, ma questa è una risposta talmente semplicistica che non risponde proprio a nulla. Tu, come immagini che avvenga, supponiamo che i vari areali siano collegati da una specie di corridoio. È un'ipotesi del tutto plausibile. Anche per altre specie sono state appurate fenomeni del genere. Scientificamente sarebbe di grande interesse dimostrare l'esistenza di questi corridoi, ma per una ricerca di questo genere occorrerebbero troppi mezzi e così dovrò a limitarmi a un puro e semplice censimento nella zona che mi è stata assegnata. Però catturando dei lupi e applicando loro dei radiocollari, cioè dei collari muniti di piccole radiotrasmittenti, in modo da poter seguire i loro spostamenti una volta liberati. A conti fatti i radiocollari non hanno dato buoni risultati e dopo poche settimane tutte le trasmittenti rimesse al collo dei lupi si sono guastate, afferma Franco. Non aggiunse, si limitò a pensarlo, se davvero per quegli scarsi risultati valesse la pena di torturare gli animali per la cui sopravvivenza gli scienziati intendevano operare. Anche il simulatore di ululati è utile piuttosto per orientare le ricerche verso una zona piuttosto che verso un'altra, ma se i lupi in una zona ci sono o meno lo si potrà dire soltanto quando saranno stati avvistati o ne saranno state scoperte le tracce. D'inverno sulla neve le ome sono chiaramente visibili, già, ma i veri strumenti di cui dovremmo servirci saranno i nostri occhi e le nostre gambe. La tecnica non potrà evitarci neppure il freddo, la fatica, i pericoli, la paura. Però, mentre parlava, Franco pensava che un radiocollare gli avrebbe permesso di sapere che cosa stava facendo in quello stesso momento il suo lupo. Non aveva rinunciato del tutto alla speranza di incontrarlo di nuovo, un giorno o l'altro. Chissà se è orecchio piegato lo avrebbe riconosciuto. Tutti i testi sulla socializzazione che aveva letto erano concordi nell'affermare che lo avrebbe riconosciuto anche a distanza di molti anni. Si era fatto ancora una volta l'imbrunire e il giovane lupo dall'orecchio piegato andò in cerca del padre con l'intima speranza di apprendere da un qualche impercettibile segno che almeno quella notte il branco sarebbe andato a caccia. Lo trovò invece ancora accovacciato sulla rupe dove stava isolato da parecchi giorni senza scendere mai per non andare a beverassi al torrente. Teneva lo sguardo fisso davanti a sé nella direzione opposta a quella in cui il sole stava tramontando e i suoi occhi sembravano persi in lontananza sulle creste dei monti orientali che le ombre della sera facevano confondere con il cielo già scuro. Li si mise davanti cercando di richiamare la sua attenzione. Gli occhi gialli del maschio alfa lo trapassarono da parte a parte e rimasero puntati sulle vallate orientali. La rigida immobilità del grosso lupo suscitava uno sconcertante senso di pena. Si era quasi contagiati dalla rassegnata e cupa tristezza che covava dentro di sé. Orecchio piegato strisciò sul ventre pronto a balzare via se le sue espansioni fossero state accolte da un ringhio scontroso finché giunse a mettergli le fauci intorno al collo senza stringere. Era il saluto tradizionale fra lupo e lupo. Un gesto di affetto e nello stesso tempo di devozione e di ossequio che era diretto non al padre. Il giovane lupo aveva ormai un'età in cui i vincoli di sangue sono dimenticati da un pezzo. Ma al maschio alfa, il signore del branco, non ebbe alcuna risposta. Continuò a leccare e a mordecchiare. Tutto inutile. Il grosso lupo sembrava pietrificato dalla sofferenza. Orecchio piegato andò allora in cerca della madre. Come femmina alfa aveva sufficiente autorità per prendere le iniziative che il capobranco eludeva. Tanto più, dopo che il maschio beta non aveva più fatto ritorno e il numero 3 del branco non aveva preso automaticamente il posto, non si era dimostrato all'altezza del ruolo. Trovò la lupa sotto la rosa canina, nella gabbia di sterpi. Raspava con gli unghioni il terreno per scavarsi una buca abbastanza profonda da contenerla comodamente e si interrompeva soltanto per girare freneticamente in tondo, in modo da allargare tutto intorno la cupola di rame e di radici. Il giovane lupo rimase a osservarla un poco, molto perplesso. A lui non era mai capitato di assistere a simili preparativi, ma fu l'istinto a suggerirli che cosa significavano. Seppe che la femmina alfa non si sarebbe più allontanata dalla tana, fino a quando sarebbe arrivata la nuova cucciolata. Guardò con occhi diversi i suoi compagni di branco. Anche i fratelli erano molto cresciuti, ma non quanto lui, e come cacciatori avevano moltissimo da imparare. Coda mozza si era fatta ancora più pigra e infingarda, egoista e prepotente. Coyote era quello che era, sul nuovo maschio beta c'era da fare poco affidamento. La giovane lupa dal manto fulvo trascorreva le giornate fiutando le folate di vento che giungevano dalle vallate orientali e continuava a aspettare paziente, senza accorgersi del passare delle ore e dei giorni, per percepire l'ordine del lupo che era partito con macchia nera. Orecchio piegato capì che sarebbe toccato proprio a lui assicurare il nutrimento alla femmina alfa, per tutto il tempo in cui lei non avrebbe potuto procurarselo da sola. La grossa responsabilità che la natura stessa gli addossava lo fece sentire a disagio. Per la prima volta dubitò di non essere all'altezza del compito. La realtà era che lui, pur, era stato assalito dalla terribile apatia fatta di avvilimento e di fame, che aveva infiacchito l'intero branco, da quando il maschio alfa aveva rinunciato a inseguire i camoci, da quando macchia nera e il suo compagno non erano tornati dai territori orientali. Tuttavia l'esitazione del giovane lupo fu di breve durata. Non sopravvalutò le sue forze, come aveva avuto il vizio quando era cucciolo, ma si aggrappò alla consapevolezza dei suoi doveri. Avrebbe fatto tutto ciò che la natura gli imponeva di fare, avrebbe assorto tutti i suoi compiti nel branco. Forse non sarebbe riuscito, ma non si sarebbe tirato indietro. Fedele al suo proponimento fu lui a correre quando Coyote, acciambellato dietro il solito albero, mugulò per dare l'allarme. Da quando lo sparo lo aveva terrorizzato, orecchio piegato non aveva più avuto l'ardire di strisciare attraverso l'ultima barriera di cespugli per affacciarsi sulla radura. Quella volta si impose di farlo. Annusò a lunga l'aria, sforzandosi di capire quale fosse il pericolo che Coyote aveva segnalato. Percepì soltanto i consueti odori del bosco, scrutò da ogni parte, ma nulla si muoveva. No, anzi, là, in fondo, appena un'oscillazione dei ramoscelli, ma non sfuggì agli occhi gialli puntati con attenzione spasmodica. Il giovane lupo retrocesse di un passo per nascondersi meglio, non per paura, ma per poter essere lui a attaccare con il vantaggio della sorpresa. Ancora un fremito dei ramoscelli appena più prolungato e individuabile. Ma quale nemico poteva essersi avvicinato tanto senza emanare alcun odore che potesse farlo identificare? Poi orecchio piegato scorse fra le frasche dall'altra parte della radura due occhi gialli, obliqui immobili. Gli occhi presero il loro posto nella testa triangolare e dietro la testa spuntò l'intero corpo. Incredulo esaltante, orecchio piegato corsa a dare il benvenuto a macchia nera. Non importava che fosse orribilmente piegato e coperto di ferite, non ancora cicatrizzate. Non importava che la sua pelliccia fosse deturpata da larghe chiazze di sangue, ragrumato e da lunghi strappi spelacchiati. L'unica cosa davvero importante era che il maschio beta era finalmente tornato. Il giovane lupo gli leccò il muso, gli mordicchiò il colo e le guance. Macchia nera lo respinse seccamente, mostrando i denti. Orecchio piegato sulle prime se ne risentì, poi si accorse che il compagno si trascinava a stento, talmente estremato dalle fatiche, dalla stanchezza e dal digiuno da non poter sopportare neppure le effusioni di affetto e di gioia. Aveva dovuto liberarsi a uno a uno dagli spietati nemici del branco orientale e infinite volte aveva trovato nell'istinto di conservazione il coraggio e la forza per vincere un nuovo duello, quando appariva ridotto allo stremo dal duello precedente. Debole come era, aveva saputo correre più del vento, più dei lupi che lo inseguivano fino a far perdere le tracce. Era dovuto restare notti e giorni rintanato dentro una forza, sopra una rupe, in mezzo a un macchione, muovendosi soltanto per cercarsi un nascondiglio più sicuro un poco più avanti. Per giorni e notte era rimasto assolutamente immobile, leccandosi le ferite per guarire e per recuperare le energie che gli sarebbero accorse per arrivare passo dopo passo fino al bosco lontano del suo branco e per tutto quel tempo non aveva avuto nulla da mangiare, nulla da bere. Eppure si era salvato ed era riuscito a riunirsi ai suoi compagni, anche se non era in grado neppure di ricevere il loro saluto festoso. Il nuovo maschio beta corse a fare atto di sottomissione e così gli restituì quello che era stato il suo posto nel branco. Anche la femmina alfa uscì dalla tana e persino il capobranco scese dalla rupe saltellando su tre zampe per andare ad annusare le ferite di macchia nera. Lui si trascinò avanti ancora di qualche passo cercandosi un giaciglio. La fulva si alzò e gli cedette premurosamente il suo, in un punto ben riscaldato dai raggi del sole e abbastanza lontano dagli altri giacigli, tanto che nessuno avrebbe disturbato il lungo sonno che sarebbe occorso al maschio beta per guarire. Macchia nera barcolò pesantemente fin là e si lasciò cadere a terra rovesciato su un fianco. La fulva gli si accostò e lo annusò tutto cercando l'odore del lupo che non era tornato, poi si accovacciò accanto al ferito in atteggiamento vigile. L'altro non le badò neppure, adesso doveva riposare, adesso doveva mangiare. Nel suo presente non c'era posto per altro. Quella notte orecchio piegato andò a caccia da solo, non fu la sua fame a dargli coraggio, ma la tremenda responsabilità che gli era stata data dalla natura di assicurare il nutrimento della femmina alfa affinché i nuovi cuccioli potessero nascere. Si era allontanato dalla radura di poche centinaia di metri, quando si accorse che la fulva lo aveva seguito nel bosco, sul sentiero di caccia. A lei la natura aveva assegnato il compito di provvedere al nutrimento del maschio beta. Con il passare dei giorni il branco cadde in un'apatia sempre maggiore. Il maschio alfa trascorreva intere giornate in meditazione sulla rupe. La lupa, che ogni giorno si faceva più grossa e rotonda nei fianchi, stava fuori dalla tana sempre meno. Adesso c'era anche macchia nera che, rovesciato a terra, sembrava non essersi più risvegliato dal sonno profondo in cui era piombato appena tornato. E invece aveva gli occhi gialli mai chiusi e spiava intorno senza perdere nulla di quanto accadeva. Non era indolenza però, in quanto ciascuno faceva esattamente quanto la natura aveva disposto che facesse. I lupi piuttosto vivevano nell'attesa di qualcosa e non sapevano che cosa. Non semplicemente la nascita della nuova cucciolata, che quello era un avvenimento normale, di ogni anno in quel periodo, neppure l'arrivo della primavera, che tardava ma si annunciava già con l'effervescenza delle foglionine verdi sui rami, con l'uscita dei ghiri dal letargo, con le dure protuberanze callose che erano spuntate sulla fronte dei cervi e che presto sarebbero diventate come corna ancora più solide e ramificate di quelle che avevano perso alla fine dell'autunno. Niente di tutto questo, semmai l'oscuro presentimento di un destino che doveva compiersi e non poteva essere evitato. Ogni sera i lupi si mettevano in caccia e orecchio piegato era sempre il più attivo, pongolato dalla fame e dai suoi doveri. Conduceva con sé i quattro gemelli, anche se potevano essergli di scarsissimo aiuto, perché uno dei suoi doveri era insegnare loro ciò che lui aveva a sua volta imparato dagli anziani, la trasmissione della cultura. Non doveva arrestarsi, proprio perché il branco languiva attraversava uno dei periodi più tristi e la speranza in un futuro migliore era riposta in ciò che le giovani generazioni sarebbero state capaci di farlo. Gli altri lupi in genere cacciavano ciascuno per proprio conto, vicino alla radura o poco lontano, a seconda di dove trovavano qualcosa che servisse almeno a placare i brontolì imperiosi dello stomaco vuoto. Orecchio piegato invece non doveva pensare soltanto a sé stesso e non poteva accontentarsi del poco che il bosco gli offriva. Il piccolo branchetto che lui comandava non era molto diverso da una banda di ragazzi impegnati, però molto seriamente in quell'eterno gioco che la lotta per la vita e lui li guidava in avventure sempre più azzardate. Una notte trovarono un porcello fuggito dagli stazi e fu quella la loro preda più succulenta, ma il più delle volte dovessero accontentarsi di lepri e conigli selvatici o di nulla. Ci furono anche le volte in cui dovettero fuggire precipitosamente dalle volpi e dai cani randagi e ci fu la volta terribile in cui un allocco piombò su di loro dal cielo, silenziosissimo nel buio più fitto e rappì fra i suoi artigli una delle femmine, portandola nel suo inaccessibile nido fra i rami più alti. Orecchio piegato dovette imparare a sua spese che il bosco era troppo pericoloso per dei giovani lupi che per quanto fossero agili e sani non avevano l'esperienza degli anziani e non conoscevano tutte le loro astuzie. Spesso una battuta di caccia si concludeva con la fuga della preda, oppure dopo pazienti e appostamenti capitava di vedersi portar via la preda da un altro animale più lesto e deciso. Succedeva anche che fossero gli stessi cacciatori a dover fuggire, attaccati da altri più voraci predatori, così quando anche Orecchio piegato scoprì l'immondezzaio vicino al paese finì per preferirlo a ogni altro territorio di caccia. Anche all'immondezzaio, come in ogni altra cosa della vita, a volte andava inesperatamente bene, altre diresperatamente male. Se si trovavano gli scarti della macelleria e gli avanzi dei ristoranti c'erano da imbottirsi la pancia e restavano ancora pezzi di carne e frolla così grossi che i giovani lupi, quando se li trascinavano dietro per portarli agli invalidi, ogni pochi passi si dovevano fermare e depositarli a terra per far riposare le mandibole indolenzite dal peso. Quella notte era stata una delle più fortunate. Orecchio piegato e i suoi gemelli, al loro ritorno della radura, fecero cadere a terra i grossi pezzi di bue che avevano portato dalla discarica e subito si allontanarono per andare a concedersi in meritato riposo. Sarebbe stato offensivo, indelicato e avvilente se avessero portato le loro offerte direttamente agli invalidi, che si sarebbero trascinati a prendere la loro parte soltanto quando avrebbero avuto la certezza di non essere osservati. E così avvenne anche quel giorno. La lupa uscì da sotto la rosa canina, gonfia e pesante, andrò a cercarsi bocconi di carne sparsi per la radura. Si guardò intorno con arido e ostentato indifferenza per accertarsi che nessuno badasse a lei. Afferrò un pezzo di carne e tornò verso la tana, veloce ma senza correre, con studiata non curanza. Fu allora la volta del maschio alfa, si riscosse sulla sommità della rupe, si stiracchiò tutto voluttuosamente. In realtà tentava di distendere la zampa malata, che era rimasta rigida e piegata. Non vi riuscì e si ingegnò a discendere dallo spuntone di roccia come gli era possibile, un po' saltellando sulle zampe buone e un po' trascinandosi. Si trovò finalmente alla base del roccione e anche lui si guardò intorno facendo finta di nulla. Era ormai giorno fatto e tutti gli altri lupi dormivano. Rassicurato dal suo amor proprio, il capobranco proseguiva verso gli avanzi di carne. Fino a quel momento nulla aveva fatto immaginare che sarebbe stato proprio il giorno stabilito, quello, il giorno stabilito dal destino. Ma accade giusto allora ciò che i lupi inconsapevolmente attendevano da tempo. Macchia nera che da settimane giaceva rovesciato a terra come morto, balzò in piedi e sfrecciò latrando contro il maschio alfa. Li si bloccò davanti, muso contro muso, con gli orecchi bellicosamente inclinati davanti e la coda ritta. Lanciò un ringhio minaccioso e insultante. Era esploso in lui il rancore che covava fin da quando, braccato dai nemici del territorio orientale, aveva compreso che il capobranco lo aveva abbandonato alla sua sorte. Era tornato e a poco a poco era guarito. Aveva risparmiato l'energia in attesa della resa dei conti. Un lupo che non ha il coraggio di accorrere in aiuto dei compagni in pericolo non merita di essere il capo del branco. Tuttavia in macchia nera non c'era desiderio di vendette, neppure ambizione di comando. Era mosso unicamente dalla preoccupazione per gli altri lupi, che vedeva intristire e illanguidire. Le loro sorti non potevano restare affidate a un monarca che non era più in grado di garantire ai sudditi il necessario nutrimento. Era tempo che il branco si desse uno nuovo capo, veramente più forte e audace di tutti, capace di guidare con successo le spedizioni di caccia. Un nuovo capo capace di contrastare i nemici che premevano i confini della valle orientale, imbaldanziti dalla prima vittoria e dalla mancanza di una qualsiasi reazione da parte del branco, vicino. Adesso c'era un lupo capace di farlo, era lui, macchia nera, deciso a farsi paladino dei diritti del branco. Sebbene fosse ancora debole e indolenzito, la natura e non l'orgoglio lo spingeva adesso a combattere, non per sé ma per il futuro del branco. Fra tutti i lupi il maschio alfa era l'unico che non fosse stato stupito dallo scatto improvviso del suo sottoposto, prima o poi doveva cadere, rientrava nell'ordine naturale delle cose, se lo attendeva e perciò non fu colto di sorpresa dalla sfida. Non provava alcun rancore verso il più giovane lupo. Capiva che a spingerlo a un'aperta ribellione contro di lui era la stessa serena convinzione di poter essere un capo migliore, che un giorno lontano aveva spinto in lui a sfidare il lupo che era allora il dominante. Aveva vinto e da allora era stato un buon maschio alfa, aveva governato con prudenza e saggezza, aveva assicurato al branco lunghi periodi di pace e di benessere, si era prodigato affinché ai sudditi non mancasse il cibo, ma questo era stato prima che il dolore lo trasformasse e fra i lupi non hanno alcun valore le benemerenze del passato. Non è lecito aspettarsi riconoscenza per ciò che si è fatto, né considerazione per ciò che si è stati. La sopravvivenza del branco è la legge suprema e le esigenze del branco annullano i diritti di qualsiasi individuo, forseppure il maschio alfa, il quale sa che il suo potere, per quanto assoluto, non può essere rimesso in discussione in ogni momento e il momento era venuto. Durante il suo regno il capobranco aveva raccolto molte volte sfide simili. Aveva sempre vinto e non sarebbe rimasto tanto a lungo, il maschio alfa se non fosse stato così. Anche lui si era battuto non per sé ma per il suo branco, convinto di essere il più forte, il più audace, il più astuto e ne aveva dato infinite dimostrazioni, ma adesso era diverso. Aveva riportato troppi insuccessi di cui non poteva darsi alcuna scusante. Se non fosse stato il capobranco sarebbe stato persino contento che il giovane rivale si fosse finalmente deciso a rivendicare le responsabilità che si erano fatte troppo pesanti per lui. Gli avrebbe ceduto spontaneamente il suo trono, ma un maschio alfa non può abdicare perché comunque gli rimane un ultimo dovere da assolvere, verificare sulle sue stesse carni che il pretendente possiede tutte le doti necessarie per essere un buon capobranco. Soltanto per questo il maschio alfa che pure sarebbe stato felice di vedere macchia nera a suo posto, che pure si sentiva troppo debole e malandato per affrontare il ringhioso antagonista, drizzò a sua volta la coda e mostrò le zanne, disponendosi a combattere estrenuamente l'ultimo duello. Tutti gli altri lupi erano stati svegliati e disoppassati dai furibondi latrati, compresero al volo che cosa stava succedendo e corsero a formare un largo cerchio intorno ai due contendenti, in un silenzio profondo che portava lontano i loro ansiti eccitati. Si disposero a essere testimoni obiettivi e imparziali della drammatica lotta, per tutti era assolutamente indifferente che vincesse l'uno o l'altro, avrebbe vinto comunque il migliore, ma erano impazienti di sapere chi sarebbe stato il maschio alfa, a cui avrebbero affidato i loro stomaci e le loro vite. Al contrario i due avversari non mostravano alcuna impazienza, continuavano a girarsi intorno muso contro muso, celebrando i rituali preliminari della lotta accanita ma cavalleresca per la supremazia. Avevano un'aria altere e svagata, ma parevano voler dare l'impressione di non pretendere troppo sul serio il rivale. In realtà approfittavano del paradossale balletto cerimoniale per studiare ogni movimento dell'altro e valutarne la forza. Lo scatto, la prontezza di riflessi, mascheravano con l'atteggiamento quasi derisorio il profondo rispetto che nutrivano l'uno per l'altro. Il maschio alfa era molto dimagrito e si muoveva a fatica, ma non per questo macchia nera si illuse di poter avere una facile vittoria. Il capobranco conosceva infinite astuzie per arrivare a affondare le sue zanne e allora un solo mosso sarebbe vastato per costringere l'avversario e la resa. Era anche talmente esperto e paziente da rendere addirittura impensabile coglielo di sorpresa. Così macchia nera decise di giocare subito le sue carte migliori. Non la forza e l'agilità, giacché anche lui era molto mancocio, ma la rabbia che aveva in corpo e la più decisa volontà di vittoria. Si gettò lo sbaraglio, sembro che i due coppi si aggrovegliassero insieme, tanto stretti da non potersi più districare. Invece era tale la fulmineità con cui i due lupi si schivavano e sferavano subito il contrattacco che non si erano neppure sfiorati. Al maschio alfa ogni mossa costava un miracolo di ostinazione, ma di simili miracoli ne compì a centinaia, prima di convincersi che macchia nera sarebbe stato un validissimo successore, audace, accorto e tenace. Allora la lotta impressionante cessò di colpo, come era iniziata. Fu il maschio alfa a abbassare la coda, quasi che stesse ammainando una bandiera, a reclinare all'indietto gli orecchi, quasi che si fosse tolto la corona, a leccare il muso dell'alto, quasi che volesse essere il primo affarato di sottomissione al nuovo capobranco. Macchia nera rimase immobile al suo posto, fiero, altero, maestoso, con gli occhi diretti e la coda alzata, il petto gonfio e il muso rivolto superbamente al cielo. Sembra che di colpo fosse raddoppiato di statura. Da quel momento non era più semplicemente un lupo, ma il maschio alfa, il capo del branco. Tutti gli altri lupi gli si avvicinarono per rendergli omaggio secondo l'immutabile rituale, leccandogli il muso. Fu la lupa gravi da compiere per prima il simbolico atto di sottomissione e di fedeltà al suo nuovo compagno. Come femmine alfa era la compagna del maschio alfa e non faceva alcuna differenza che questo fosse un lupo oppure un altro. Allo stesso modo giurarono fedeltà e obbedienza a tutti gli altri, fino a orecchio piegato e ai suoi fratelli. Allora Macchia nera salì a rapidi balzi sulla sommità della rupe, convocò i suoi sottoposti con un urlato sommesso poco più di un uggiolio, ma secco imperioso. Tutti i lupi accorsero su per i roccioni, solleciti e obbedienti. Arrivarono subito le femmine alfa e i lupi più giovani. Risposero senza indugi alla chiamata la piccola codamozza e il fragile coyote. Salì anche la fulva, ma si tenne rispettosamente in disparte, consapevole del suo modesto rango nel branco. Il nuovo maschio alfa balzò sul masso più alto e tese al cielo il collo poderoso, dischiusa appena le labbra e lanciò un sonoro ululato a cui si unirono i suoi sudditi, con i musi rivolti in ogni direzione affinché giungesse in tutte le valli e su tutte le montagne l'annuncio che era iniziato il regno di Macchia nera. Nessuno si occupò del capobranco spodestato. Il vecchio masco alfa adesso era tornato un lupo qualsiasi, precipitato agli ultimissimi posti della gerarchia e se avesse voluto risalire la scala avrebbe dovuto contendere ogni gradino a chi lo occupava. Era andato a ritirarsi sulla rupe, ma più sulla cima, ma dentro una crepa nella parete dove nessuno avrebbe badato a lui. Non si sentiva avvilito e umiliato di aver perso il trono. Se era mortalmente addolorato era per la consapevolezza che non avrebbe potuto più essere di alcuna utilità al branco. Sarebbe stato soltanto dipeso a chiunque ed era ancora troppo fiero e orgoglioso perché potesse sopportare ciò. Al tramonto il nuovo capobranco chiamò a raccolta i suoi sudditi. Per tutti doveva iniziare una nuova vita. Non avrebbero più dovuto accontentarsi di conigli e di ghiri. Non avrebbero più dovuto accontentarsi di conigli e di ghiri. Non avrebbero più dovuto adattarsi a mendicare dalle volpi i resti puttidri dell'immondezzaio. Il maschio alfa intendeva mantenere le sue promesse fin da quella sera stessa. Si avviò sul sentiero di caccia e tutti lo seguirono. Nella conca rimase soltanto la lupa, già troppo grossa e pesante perché potesse partecipare alla battuta. E rimase nascosto nel crepaccio il vecchio maschio alfa di cui già tutti si erano dimenticati. Lui aveva avuto tutta la giornata per riflettere e prendere la decisione. No, non avvenne così. Era un lupo. I lupi non riflettono, quantomeno di ciò sono sicuri gli umani. E a decidere per loro è l'istinto. Si avvicinò alla rosa canina e scambiò una lunga occhiata con la sua compagna. Si dissero qualcosa? No, certamente no, si fissarono soltanto. Eppure in qualche modo la lupa seppe che cosa l'altro stava per fare e perché. Intendeva lasciare il branco, per non dover essere di peso a nessuno. In qualche modo avrebbe saputo badare a se stesso o avrebbe fatto la fame, ma comunque non aveva importanza, giacché la sua misteriosa malattia gli lasciava ancora così poco da vivere. Il lupo in qualche modo fu confortato di sapere che lei non tentava neppure di dissuaderlo, perché considerava giusta la sua decisione, la stessa che da sempre avevano preso tutti i lupi che si erano trovati nelle sue condizioni. Il lupo sostò a dare un'ultima occhiata alla tana e all'intera valletta del bosco, ma neppure i suoi occhi si commossero. Si voltò e andò via saltellando penosamente sulla zampa matta, però non sapeva dove dirigersi. In effetti non aveva più alcun posto dove andare. Si incamminò nella direzione opposta a quella che aveva preso il branco, quella che era stato il suo branco. I momenti della storia. Che cosa si intende per trasmissione di cultura? Quali sono i momenti in cui si vede come la natura spinge i lupi a certe azioni per l'utilità del branco? Il come, il dove, il quando e il perché? Quali sono i sintomi della decadenza del lupo alfa? Come accetta il branco alla deposizione del capo alfa? Qual è l'atteggiamento della lupa? I racconto e voi. Nella vita degli animali il capo deve essere il più forte. In quale periodo della storia degli uomini era necessaria per il capo questa prerogativa? Perché? Oggi cosa si richiede per un capo o leader? Traccia di lavoro. Annota sulla tua scheda sui lupi le caratteristiche del rituale per la dominanza.